La Grecia dell'VIII e del VII secolo a.C. è una Grecia abitata da popolazioni che vivono una rinascita dopo il periodo caratterizzato dalla perdita della scrittura in seguito a eventi che portarono ad arretratezza sociale, politica, economica e culturale. Chiaramente assistiamo ad una rinascita che si traduce poi in un aumento numerico della popolazione, in una ripresa economica da parte dei Greci stessi e in una rinascita anche urbanistica. La formazione e la nascita di nuove città, la fondazione di nuove colonie, l'espansione oltre i confini propri della madrepatria. Assistiamo cioè ad un periodo che nella storia avviene spesso dopo un periodo buio, dopo un periodo di arretratezza. Dal punto di vista temporale ci troviamo appunto nell'VIII-VII secolo a.C. Cosa succede in questo periodo? Succede che dopo appunto quella crisi che aveva caratterizzato la Grecia per un po' di tempo e che prese il nome di secoli bui o anche medioevo ellenico, si cominciò a riprendere fiducia e ci fu un nel futuro e ci fu un progressivo miglioramento da tutti i punti di vista. Lo possiamo vedere già in questa cartina. Se nei secoli precedenti, dall'XI fino all'VIII secolo, i territori greci si limitavano ai confini propri dell'attuale Grecia, e dell'isola di Creta e delle coste della penisola della Calcedonia, dell'Anatolia. Adesso, lo vediamo di un colore diverso, per la necessità anche di ingrandire le proprie città, per la necessità di aumentare da un punto di vista territoriale le proprietà di altri territori, e i greci si cominciano a muovere verso altri luoghi e, navigando lungo il mar Mediterraneo, vanno a colonizzare, cioè ad occupare territorialmente, altri luoghi che si affacciano sul Mediterraneo. Parliamo, in questo caso, di seconda colonizzazione, che è seconda perché successiva alla prima, durante la quale, prima del Medioevo ellenico, appunto, la Grecia stessa si espanse. E' il periodo in cui veniamo coinvolti anche noi, cioè la penisola italica, in particolar modo il sud, e anche parte della Sicilia, che vengono colonizzati, o comunque ricadono sotto l'influenza della Grecia, e governate, appunto, dai tiranni, vedremo adesso di chi sto parlando, dai tiranni greci. Seconda, quindi, colonizzazione. Le città furono tante, e furono città che alcune ebbero un peso influente anche nella storia greca, altre furono meno protagoniste. Se parliamo di Atene e Sparta, immediatamente le identifichiamo come le città greche per eccellenza, ma, in seguito poi anche al declino, nei secoli, di queste due grandi città, ha preso il sopravvento altre città importanti come Corinto, come Tebbe, come Micene. Il Mar Mediterraneo continua ad essere il mare all'interno del quale si sviluppa la storia greca, la storia della classicità, coinvolgendo anche, come abbiamo visto nella cartina precedente, la parte del sud Italia e della Sicilia. Abbiamo parlato della seconda colonizzazione, come un momento favorevole che vive il popolo greco, e che vede il sorgere di nuove poleis. Singolare poleis, plurale poleis. Le poleis, in effetti, come dicono gli storici, è un termine che non è stato mai tradotto in città. Parliamo di città-stato, però in effetti parliamo, più che della città fisica, parliamo dell'istituzione che si sviluppa all'interno di un territorio governato secondo uno stile, secondo una specificità, che è appunto quella della polis. Allora, mantenendo il nome polis, vediamo com'era urbanisticamente conformata una polis. c'era sempre una parte che si sviluppava lungo un promontorio, nella quale si costruivano, venivano ubicati gli edifici che erano dedicati al culto, quindi il tempio, e nella parte leggermente più bassa, ma sempre alta, di quest'acropoli, il teatro. L'acropoli era fisicamente questo promontorio, separato dal resto della polis, perché appunto nella parte altra stavano prevalentemente i tempi e il teatro. Nella parte più bassa, invece, c'era la agorà, la piazza, potremmo definirla, cioè il luogo in cui si solgeva la vita della popolazione, era il luogo in cui ci si incontrava, in cui avveniva la vita economica, gli scambi commerciali, per esempio, le bottega artigiane, le attività di compravendita, quindi era la piazza principale lungo i cui confini stavano le botteghe, i luoghi in cui avvenivano le attività economiche. Era anche il luogo in cui ci si scambiava opinioni politiche, è quello che rappresenta in qualche modo un po' le nostre piazze moderne, un luogo di incontro, un luogo di scambio, un luogo di comunicazione, e poi intorno al Lago Rà si sviluppava il resto della città con le abitazioni delle persone. Chi erano i cittadini della polis? All'interno della polis intanto troviamo coloro che comandano, e coloro che comandano inizialmente erano dei sovrani, ma la monarchia fu progressivamente abbandonata nelle poleis per dare vita a delle forme di governo in cui a comandare erano posti i cosiddetti aristoi, cioè dal greco i migliori. erano quelli che formavano l'aristocrazia per l'appunto. In Grecia gli aristoi erano quelli che possedevano le terre, l'aristocrazia terriera. Possedere una terra era considerato un privilegio perché significava avere un patrimonio, erano veramente quelli che contavano e quindi che potevano comandare. Non erano in tanti, erano una ristretta minoranza di persone. Per questo il governo greco delle polis viene definito aristocratico perché formato appunto dagli aristoi e anche oligarchico da oligos che vuol dire poco, è un aggettivo, quindi gli oligoi erano i pochi, che i pochi aristoi, i pochi aristocratici che appunto governavano la cosa pubblica. Questo almeno all'inizio, dopo il passaggio della monarchia, dopo il passaggio di consegna della monarchia, inizialmente il popolo quindi non era contemplato nella possibilità di governare ed era rappresentato prevalentemente da tutti gli altri, cioè da tutti quelli che non appartenevano alla cerchia degli aristoi. Chi erano? Erano i cittadini maschi adulti, liberi. Liberi era una condizione importante perché nelle polis erano presenti gli schiavi. Chi erano schiavi? Quelli che non avevano libertà, quelli che l'avevano perduta, per esempio per debiti, perché economicamente non erano riusciti ad assolvere i loro debiti, a pagare i loro debiti, e quindi avevano perso la propria condizione di libertà. Altre figure escluse dalla vita pubblica erano le donne ed erano anche gli stranieri che però avevano la residenza nel territorio greco. Quindi gli aristoi, i pochi, l'oligarchia aristocratica, comandavano, mentre la gran parte dei cittadini, adulti liberi, potevano partecipare alla cosa pubblica dalla quale invece erano escluse le donne, gli stranieri e chiaramente gli schiavi. Questa situazione però non durò a lungo perché ci fu un momento in cui il popolo, il demos, appunto, si ribellò e nacquero una serie di conflitti sociali. Prevalentemente il motivo era legato alla proprietà terriera e quindi tutto ruotava un po' intorno al possedere le terre e quindi chiaramente la propria ricchezza era data anche dal possesso di terre. Proprio nel momento in cui si visse quella espansione demografica, quindi quella crescita di popolazione, le terre non furono più sufficienti per poter essere, non erano più bastevoli per tutta questa popolazione. La gente si indebitò e molti dei cittadini greci persero la propria libertà ed è per quello che avvenne anche una ribellione alla quale si rispose attraverso la tirannide. I tiranni che per noi corrispondono a delle figure chiaramente che usurpano il potere e che lo esercitano in maniera violenta, in effetti inizialmente non erano da considerare in questo senso. Vedremo che il termine tiranno soltanto dopo assumerà un valore negativo. I tiranni erano coloro che comandavano, coloro che ripresero le redini delle delle poleis e cercarono di riunificare in maniera pacifica questi stessi territori. A quel punto le popolazioni che avevano i Dori Ioni e Ieoli che avevano invaso tutta la Grecia che abbiamo visto in questa slide e che avevano colonizzato nella seconda colonizzazione tutti questi altri territori cominciarono a riscoprire una identità comune una cultura comune fatta non soltanto dello stesso linguaggio coine ma anche della stessa religione le credenze religiose stiamo parlando di politeisti di una religiosità che partiva anche dalla venerazione di all'interno di alcuni non solo dei tempi ma di alcuni santuari di figure di divinità i cui nomi conosciamo Apollo Zeus Demetra e tanti altri dentro questi santuari e dentro questi tempi avvenivano gli uffici religiosi l'attività vera e propria religiosa altro elemento che costituisce dal punto di vista culturale l'identità del popolo ellenico del popolo greco è quello dei giochi panellenici i giochi panellenici sono le nostre olimpiadi se vogliamo pan significa tutto ellenico significa grecia si chiamano giochi panellenici perché quando venivano giocati tutte le discipline sportive venivano giocati in tutto il territorio greco e per questo si chiamavano giochi panellenici addirittura erano così importanti per i greci che se erano in corso queste olimpiadi scoppiamo una guerra le guerre venivano sospese per dare possibilità all'olimpiade di essere realizzata ecco questa identità unica del popolo greco darà forma e forza ad un popolo che costituirà una vera e propria civiltà la civiltà greca